Buongiorno, oggi ci troviamo qui nel banco per fare delle prove tecniche su un flugone Renault 1.5 DCI di 90 cavalli con 0 chilometri ancora da immatricolare. Cercheremo di vedere i cavalli che ha all'origine il motore, monteremo un olio e vediamo se riusciamo con olio additivo a migliorare le prestazioni. Poi andremo a fare un altro test su sempre un motore 1.5 DCI, per ora 75 cavalli, che ha già percorso 3.500 chilometri. Rileveremo la potenza al banco, sostituiremo l'olio e vediamo se riusciamo a ottenere dei miglioramenti con olio additivo. Quindi partiamo per la prova, grazie. Diamo inizio al test sul motore da 90 cavalli. Grazie. 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 Grazie a tutti. Abbiamo posizionato il furgone sul ponte e ora andremo ad eseguire il cambio dell'olio con l'aggiunta dei nostri edifici. Grazie per la visione! 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 nel cambio manuale. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ok, il livello è al massimo, quindi ora possiamo rifare la prova, il test. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!